Allora, scusate di fare meno confusione possibile perché stiamo pur sempre davanti a un ospedale e perché al governatore Emiliano non dia fastidio anche questo ospedale. Siamo qua perché prevenire è meglio che curare. Quando avete letto e quando mi avete girato notizie in cui si parla di decine di ospedali a rischio in Puglia ovviamente qualunque persona normale al di là delle idee politiche si è preoccupato a nome dei malati, ma a nome dei medici, a nome degli infermieri. Oggi scopriamo sui giornali che Emiliano scherzava, ha detto che era uniferbole. Ecco, secondo me scherzare parlando di decine di ospedali a rischio chiusura è una cosa da imbecini.